sia lodato gesù cristo benvenuti fratelli e sorelle sul mio blog waltersulla.it andiamo a leggere la vita e rivelazioni della madonna alla venerabile madre mariana de jesus torres e ispirati dallo spirito santo leggiamo e meditiamo la straordinaria vita di questa santa e di questo esempio per i giorni nostri madre mariana de jesus torres quito ecuador mariana francesca torres nacque in spagna nel 1563 in una famiglia della aristocrazia spagnola da diego torres e maria boricoa entrambi i devoti cattolici fin dall'infanzia la piccola mariana ebbe visione di gesù e della madonna quando a nove anni le apparve gesù e le disse che è arrivato il momento per lei di lasciare la sua casa paterna per abbracciare la sua croce in una terra lontana mariana comprese che doveva seguire sua zia madre maria da tabuada nel viaggio che stava per intraprendere nelle americhe per fondare l'ordine dell'immacolata concezione durante il viaggio in nave si scatenò un uragano di inaudita violenza tanto spaventoso che anche i marinai a un certo momento credettero che non ci fosse più alcuna speranza di salvezza mariana e sua zia videro tra le acque tempestuose un gigantesco serpente con sette teste che cercava di distruggere la loro nave in quel momento la piccola mariana perse i sensi madre maria pregò il signore che gli salvasse improvvisamente la luce del giorno fece breccia in quella spaventosa oscurità e l'uragano si placò quando mariana rinvenne raccontò alla zia di aver visto un serpente più grande del mare che si contorceva e poi una signora di incomparabile bellezza vestita di sole con una corona di stelle sulla testa e con un bambino in braccio la signora trafiggeva con una lancia la testa del serpente due anni più tardi madre maria fece coiniare una medaglia su cui era rappresentata la scena che maria che mariana aveva visto nella sua visione la medaglia da quel giorno viene portata da tutte le suore dell'immacolata concezione di quito mariana iniziò il noviziato all'età di 15 anni e qualche anno dopo fece la profezione di fede un giorno nel 1582 quando era ancora una giovane suora mentre stava pregando nel coro del suo convento davanti al santissimo sacramento udì un rombo terrificante e improvvisamente vide la chiesa volta da una fitta oscurità solo l'altare maggiore rimase illuminato allora si aprì la porta del tabernacolo e compareve gesù in croce la vergine maria san giovanni evangelista e santa maria maddalena erano in piedi accanto a lui come sul calvario mariana allora sentì una voce il castigo per il ventesimo secolo vide tra vide tre spade ciascuna vide tre spade ciascuna riportava un'iscrizione sulla prima era scritto punirò l'eresia sulla seconda unirò l'empietà sulla terza punirò l'impurità allora la madonna disse a mariana figlia mia vuoi sacrificarti per queste persone sono pronta rispose prontemente la giovane suora in quel momento tre spade trafissero il suo cuore facendola morire la mattina seguente le sue consarelle trovarono il suo corpo ormai freddo riverso per terra nel coro la sua morte venne confermata anche dal dottor don sancio e da un frate francescano mariana dopo essere morta comparve dinanzi al signore per essere giudicata ma in lei non fu trovato alcun peccato gesù le chiese se voleva accettare di tornare sulla terra per espiare per gli uomini del ventunesimo secolo for mariana accettò e venne rimandata sulla terra per compiere la sua missione e per questo per tutta la sua esistenza terrena il signore non le risparmiò alcuna sofferenza non è possibile nel leggere questo scritto hanno suonato la porta ora fuori c'è un casino che non c'è mai stato un casino così fuori nella notte del 17 settembre 1538 por mariana ricevette le pieghe di cristo nelle mani nei piedi nel costato fu tormentata per tutta la sua vita da satana ma anche dotata di doni mistici straordinari tra i quali quello del discernimento dello spirito nel 1589 alla morte di madre maria venne nominata superiore ufficio che svolse sempre con grande saggezza prudenza e carità secondo la volontà del signore il 2 febbraio 1594 era intento a pregare nel coro quando le apparve la madonna che le disse io sono maria del buon successo alla regina nel cielo della terra la vergine che da quel giorno le sarebbe apparsa con lo stesso titolo molte altre volte le rivelò che avrebbe avuto una vita di grande sofferenze maria preannunciò molti avvenimenti che si sarebbero dovuti verificare nel ventunesimo secolo nel ventesimo secolo molte di queste profezie si sono realizzate con straordinaria esattezza la madonna chiese a mariana di far costruire una statua che la raffigurasse esattamente come la suora la vedeva nelle sue visioni la statua iniziata da un artista locale venne completata miracolosamente dagli arcangeli gabriele michele raffaele l'autenticità di questo miracolo venne confermata per iscritto dagli stessi artisti a cui è stata commissionata la realizzazione della statua madre mariana supplicò la madonna di fare in modo che il suo nome restasse segreto maria le promise che solo dopo tre secoli di silenzio si sarebbe conosciuta la verità sulle apparizioni nel ventesimo secolo madre maria nel suo convento di quito alle tre nel pomeriggio del 16 gennaio 1635 morì nel suo convento di quito alle tre nel pomeriggio del 16 gennaio 1635 durante i lavori di restauro del suo convento avvenuto nel 1906 la sua tomba venne aperta il suo corpo venne trovato incorrotto l'apparizione di nostra signora del buon successo è stata approvata dalla chiesa e madre mariana è stata dichiarata venerabile le rivelazioni della madonna a madre mariana di jesus torres la madonna descrive così la madre mariana i mali del ventesimo secolo durante questo periodo poiché in questo povero paese l'equador mancherà lo spirito cristiano il sacramento dell'estremo unzione sarà poco considerato molte persone moriranno senza riceverlo sia a causa della negligenza delle loro famiglie o per i loro falsi sentimenti che cercano di proteggere gli ammalati dal vedere la gravità della loro situazione oppure perché si ribellano contro lo spirito della chiesa cattolica spinti dall'amalizia del diavolo così molte anime saranno private di numerevoli grazie e consolazioni e dalla forza in cui hanno bisogno per fare il grande salto dal tempo all'eternità come per il sacramento del matrimonio che simboleggia l'unione di cristo con la sua chiesa esso verrà attaccato e profanato nel pieno senso della parola la massoneria che in quel tempo sarà al potere emanerà leggi in eque con l'obiettivo di abolire questo sacramento rendendo facile per tutti vivere nel peccato incoraggiando la procreazione di figli illegittimi nati senza la benedizione della chiesa lo spirito cristiano verrà meno rapidamente spegnendo la preziosa luce della fede finché non si arriverà al punto che ci sarà una quasi totale generale degenerazione dei costumi aumenteranno gli effetti dell'educazione secolare che sarà una delle ragioni della mancanza di vocazioni sacerdotali e religiose il sacro sacramento dei santi ordini sarà deriso presso disprezzato il demonio cercherà di perseguitare i ministri del signore in ogni maniera possibile e agirà con crudele e sottile astuzia per sviarli dallo stato delle loro vocazioni corrompendo molti altri di loro questi sacerdoti corrotti che saranno motivo di scandalo per i cristiani faranno sì che l'odio dei cattivi cristiani e dei nemici della chiesa cattolica apostolica romana ricada su tutti i sacerdoti questo apparente trionfo di satana porterà enormi sofferenze ai buoni pastori della chiesa non ci sarà quasi più innocenza nei bambini né pudicizia nelle donne e in questo momento di grande miseria della chiesa quelli che dovrebbero parlare rimarranno in silenzio ma sappia amata figlia che quando nel ventesimo secolo il tuo nome sarà fatto conoscere ci saranno molti che non crederanno affermando che questa devozione non è gradita a dio il clero secolare lascerà molto desiderare perché i sacerdoti diventeranno negligenti nei loro sacri doveri non avendo la bussola divina essi si allontaneranno dalla strada tracciata da dio per il ministero sacerdotale saranno attaccati ai beni e alle ricchezze quanto soffrirà la chiesa durante questa notte buia mancando un prelato e padre che li guidi con amore paterno dolcezza fortezza saggezza e prudenza molti sacerdoti perderanno il loro spirito ponendo le proprie anime in grande pericolo questo segnerà l'arrivo della mia ora attraverso l'acquisizione del controllo su tutte le classi sociali le sette tenderanno a penetrare con grande astuzia nel cuore delle famiglie e distruggeranno persino i bambini il diavolo si farà gloria di nutrirsi con prefidia dei cuori dei bambini l'innocenza dell'infanzia quasi scomparirà così si perderanno le vocazioni dei religiosi e questo sarà un vero disastro i religiosi abbandoneranno i loro doveri sacri e si allontaneranno dalla via segnata per loro da dio satan avrà il controllo di questa terra attraverso gli errori di uomini senza fede i quali come una nuvola nera oscuriranno il cielo dalla repubblica consacrata al sacro cuore del mio divino figlio questa repubblica avendo consentito l'ingresso di tutti i vizi dovrà subire ogni sorta di castighi tra i quali ci saranno pestilenze e carestie notte fra le persone e gli stranieri che indurranno un gran numero di anime all'apostasia e alla perdizione e per disperdere queste nubi nere che nascondono il giorno chiaro della libertà della chiesa ci sarà una formidabile e terribile guerra nella quale scorrerà il sangue di nativi e stranieri i sacerdoti regolari e secolari e anche di monache quella notte sarà la più orribile perché sembrerà all'umanità che il male abbia trionfato e allora la mia ora sarà giunta per detronizzare l'orgoglioso satana in una maniera sorprendente schiacciandolo sotto il mio piede incanterandolo negli abissi infernali liberando così finalmente la chiesa e la nazione della sua crudele tirannia la madonna e madre mariana ciò che più doloroso e che nel ventesimo secolo persino il clero secolare lascerà molto desiderare perché i ministri dell'altare avranno dimenticato la loro sublime missione di identificarsi con il mio santissimo figlio attraverso una preghiera umile quotidiana e frevente essi vivranno solo una vita superficiale dell'anima senza distaccarsi dalle cose materiali essendo troppo attaccati alla famiglia e alle ricchezze penseranno di non poter penseranno di poter aspirare alla santità nello stato sacerdotale praticando una o due virtù senza curarsi di costruire la solida fondamenta di una profonda umiltà senza la quale non può esserci alcuna virtù gesù a madre mariana sappi inoltre che la giustizia divina manda terribili castighi su intere nazioni non solo per i peccati della gente ma anche per quelli dei sacerdoti religiosi perché questi ultimi sono chiamati dalla prefizione del loro stato ad essere il sale della terra i maestri di verità e coloro che tengono lontana l'ira divina deviando la loro missione divina essi si degradano a un punto tale che agli occhi di dio sono proprio loro ad accelerare accelerare il rigore dei castighi perché separandosi da me finiscono per vivere solo una vita superficiale dell'anima e mantenersi distanti da me non è degno dei miei ministri con la loro freddezza e mancanza di fiducia agiscono come se per loro fossi un estraneo mentre assisteva all'agonia del suo figlio sulla croce dio padre disse a madre mariana questo castigo sarà per il ventesimo secolo al che madre mariana vide al di sopra della testa di cristo tre spade su ciascuna era scritto punirò l'eresia la bestemmia e l'impurità sia lodato gesù cristo nel cuore immacolato di maria ringraziamo la santissima trinità per questa rivelazione affinché ognuno di noi che si trovi oggi nel ventunesimo secolo e questo ventunesimo secolo come sappiamo attraverso tutte le apparizioni mariane nel mondo e il secolo nel quale gesù ritornerà a giudicare le nazioni questo ventunesimo secolo e il secolo dell'eresia della bestemmia e dell'impurità queste tre spade ricadranno come forma di castigo attraverso i segreti di meggiugori per punire il mondo e riportarlo e riportare il resto fedele cioè coloro che il cielo deciderà che dovrà sopravvivere nei cieli nuovi nella terra nuova dove questo popolo finalmente vivrà nella divina volontà rivelata luisa piccareta cioè come vivono le anime che vivono in paradiso prima di passare alla riflessione e spiegazione del messaggio che abbiamo appena letto vi ricordo che in descrizione del video troverete il mio sito web waltersull.it e la possibilità di scaricare gratuitamente i libri che ho scritto per la gloria di gesù e per la vostra salvezza quindi troverete i libri sul grande avvertimento sull'inferno che esiste la mia testimonianza e ovviamente questo libro molto importante che ho concluso in questi giorni il manuale della sopravvivenza fine dei tempi noi ovviamente clicchiamo acquista cartaceo su amazon io vi mostro che è anche presente su amazon non perché io ci debba guadagnare qualcosa ma affinché ognuno di voi possa avere anche la versione cartacea nel momento in cui arriverà la grande tribolazione e non avremo più energia elettrica per un periodo e quindi sarà necessario che tutti noi abbiamo a disposizione dei libri cartacei con come questo dove ho raccolto attraverso le varie rivelazioni di luce di maria e tanti altri mistici le piante medicinali per combattere le nuove malattie le scorte di cibo come fare le scorte di cibo e come trasformare la propria abitazione in un rifugio di preghiera un cenacolo di preghiera protetto dagli angeli e benedetto dalla santissima trinità